Ciao, intanto ringrazio per il fatto che guardi questi video. Il titolo di oggi è interessante L'innocente e il colpevole. L'innocente e il colpevole. Allora, noi viviamo in un sistema giuridico legale che dice che la legge è uguale per tutti. Allora avevo già parlato giorni fa, avevo già parlato di che cosa vuol dire in Italia commettere un crimine è diventare famoso, commettere un crimine si è chiamato capo. Adesso guardate questa foto per un po', la lascio. Qui c'è un innocente e un colpevole. Però se guardiamo bene la foto, cosa vediamo? Che l'innocente, l'innocente Enzo Tortore è ammanettato. Sono andati all'alba a prenderlo, manette, foto, si diceva una volta sbatti il mostro in prima pagina. Se guardate la foto, l'altro è il criminale di Cosa Nostra, il feroce assassino che viene arrestato come due badanti che lo portano sotto braccio con le mani libere e se guardate bene la foto la sua mano non è lontano dalla pistola carica di quello che gli fa da badante. Allora ragioniamo un attimo. Avete visto la foto? Matteo Messina Denaro senza manette. Enzo Tortore innocente con le manette. Allora ragioniamo un attimo. 2023 quella foto lì di Enzo Tortore risale a 40 anni fa. 40 anni fa cosa è successo? C'era una trasmissione che aveva 26 milioni di ascoltatori, il 47% dell'ascolto. ed era a Portobello una trasmissione, io ho già fatto vedere una volta, non la faccio rivedere, una foto dove io sono stato invitato, sono stato in televisione il video dove parlo di Enzo Tortore. e lui viene arrestato 40 anni fa, 1983. Si fa sette mesi di carcere nell'83. Nell'85 viene condannato a dieci anni di carcere. L'accusa qual è? Di essere uno della camorra, della camorra, spacciatore di droga. Enzo Tortore spacciatore. Quindi non solo lo arrestano con le manette davanti a tutti. E questa era la persona più famosa d'Italia, perché Portobello, forse l'avrete visto, quello col pappagallo, era una trasmissione che vedevano tutti. 26 milioni all'ora di ascoltatori, di telespettatori. Allora nell'85, quindi arrestato nell'83, nell'85 è condannato a dieci anni. Nell'86 la corte di appello dice, ma Enzo Tortore è innocente. Nell'87, l'anno successivo, la corte di Cassazione cosa dice? È innocente. Come è condannato a dieci anni? Perché due pentiti. Allora che cosa fa la camorra? Per vendicarsi della magistratura, manda due pentiti, due di loro, a dire noi eravamo i fornitori di droga. Mentre in Sicilia li facevano saltare per aria con il tritolo, con le bombe, lì la tecnica napoletana è più tragicomica. La mala giustizia viene chiamata. Però intanto Enzo Tortore ha fatto sette mesi di carcere, dall'83 all'88, in cinque anni è morto perché gli sono abbassati il sistema immunitario. Innocente. Quindi quella foto, rifacciamo vedere la foto. L'innocente ha manettato e il colpevole. Poi questo colpevole lo chiamano con i soprannomi Usiku, il re, il capo. È un criminale sanguinario. Uno che ha fatto fuori dei bambini, ha fatto fuori un sacco di gente. Alcuni pentiti hanno detto che facevano mangiare i cadaveri per farli sparire dai maiali. Dicendo tieni il maiale a digiuno, poi gli butti il cadavere, i maiali mangiano tutto. Allora, com'è possibile che succeda questo? Enzo Tortore lavorava alla RAI. Nel 69, in un'intervista a Oggi, disse male della RAI e fu subito eliminato. Poi rientrò in RAI con Portobello, che è diventata una trasmissione la più popolare. Lui disse, la televisione è come un grande aereo, un grande aereo, guidato da ragazzi, dei boy scout che giocano con i comandi. Cioè, ha chiamato i dirigenti dei ragazzetti che giocano con i comandi. Allora, poi nel 69 non c'erano ancora le playstation, se no avrebbe detto giocano. eliminato. Poi lavorava con televisioni locali, così. Io lo conobbi, sono andato in televisione e saluto, ovunque tu sia, caro Enzo, eri innocente. Però c'è una riflessione da fare. Se uno viene arrestato, fino a quando non viene definitivamente condannato, è innocente. però viene messo con i criminali. Cioè, se ti dovesse sfortunatamente capitare di essere innocente e viene arrestato, viene messo con dei criminali. Che dominano, con le bande dominano anche, controllano anche le carceri. Bisognerebbe tenere quelli arrestati separati da quelli condannati. Quindi, una cosa è un sospetto, un sospetto. Una cosa è una certezza. Quindi che Messina Denaro ha ucciso è certo. Che fosse un mafioso è certo. Allora non possiamo mettere nella stessa comunità, chiamiamo il carcere una comunità, persone che potrebbero essere colpevoli, ma non sono state dichiarate ancora colpevoli. Poi gli esperti addirittura a livello geografico individuano in Sicilia la mafia, in Calabria l'Andrangheta, in Campania la Camorra, che è che ha fatto fare mesi e mesi di galera, la carriera rovinata a un innocente, e la Sacca Corona Unita in Puglia. Che però questi, con una legge strana, che li prendeva dai loro paesi tanti decenni, li mandava al confine Bolzano, Torino, Milano, pensando che se mandi un criminale lontano da casa, lui smette di fare il criminale. Quindi hanno esportato in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, tutta la criminalità. Perché volevo parlare di questo? Perché secondo me l'innocente, dove non c'è una prova evidente, non può essere messo in un carcere insieme a dei assassini, ladri, stupratori, terroristi, violentatori. E' una logica di cui bisogna tener conto. Bisogna tenere conto, no? Quindi è un'ingiustizia quello che è successo a Enzo Tortora. E siccome lo considero un amico perché avevamo diventati amici, mi sembra giusto ricordarlo proprio in questo frangente, con questa foto che faccio rivedere ancora, perché è una foto importante. 40 anni prima un innocente ammanettato, 40 anni dopo un vero colpevole assassino criminale che viene accompagnato fuori dall'ospedale come fossero due badanti da due delle forze dell'ordine. Riflettiamo su cosa vuol dire essere innocenti. Ah, ancora, grazie e ti amo, grazie e ti amo e aggiungerei tu meriti il meglio.